Buongiorno e bentornati in AutoSmile. Oggi vi presentiamo questa vettura che è nuova, ancora da immatricolare, perciò non è né un aziendale né un chilometri zero, ed è una Subaru XV1006 la i, cambio automatico CVT, Lineartronic, motore benzina ed è un 114 cavalli, allestimento style extra e adesso andremo a presentarvela. Cerchi in lega scomponibili di 17 pollici, telecamera anteriore e posteriore per dei parcheggi al massimo delle vostre possibilità. Ricordiamo che Subaru è sempre un motore boxer, perciò cilindri contraposti ed è quattro ruote motrici. Un bagagliaio molto spazioso, qualità come al solito giapponese eccellente. Gli interni è forse la parte che è incredibilmente giapponese, dalla loro perfezione, come sono rifiniti. Un bracciolo centrale, anteriore e posteriore, molto belli anche i sedili anteriori, sportivi, sagomati. Bella, di qualità, ma a guidarla vi assicuriamo che è ancora meglio, perciò ricordatevi di prenotare il vostro appuntamento, contattateci così sarete certi che la vettura sia ancora disponibile e venite a fare un test drive senza impegno. Vettura dotata di navigatore satellitare, ovviamente autoradio, collettore cd. Stare qui sulla plancia di comando di questo veicolo vi fa sognare di lunghi viaggi con la vostra famiglia, molto bella. Freno a mano, stazionamento elettronico, sedili riscaldabili, cambio automatico, clinizatore automatico. Tutto touch screen, ovviamente. Cambio al volante con queste palettine qua per abbassare le marce e questa qui per aumentare le marce. Tutti i comandi sulla sicurezza, lane assist, cruise control adattativo, comandi di via voce bluetooth e della radio. Specchietto interno fotocromatico, perciò soscura automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dalle auto che vi sopraggiungono posteriormente. E questo è il gioiellino giapponese, questo 1.6 Boxer, ovviamente con cambio automatico, 4 ruote motrici, guardate la disposizione del motore, impeccabile, molto giapponese. La migliore pubblicità per questa vettura, per questa Subaru XV 1.6 Lineartronic Style Extra, sono i clienti che già ce l'hanno. Provate a informarvi anche online sulle recensioni dei loro possessori e vedrete che sono molto molto contenti. È un ottimo prodotto ed è disponibile da noi qui, nella nostra sede a Secunago. Venite a provarla, ma prima contattateci sempre per sapere se è ancora disponibile. Vi aspettiamo!